Grazie a te Marco, dunque la situazione del Bari con giocatori infortunati a livello diplomatico probabilmente e poi anche la situazione in casa Juve con Aghero, Xavier Jacopelli Intanto per quanto riguarda il Bari è evidente che questa stagione sia stata costellata di incredibili sofferenze per i tifosi pugliesi anche gli episodi che il nostro amico ha citato poc'anzi confermano che questo è un momento di totale anno zero per il club pugliesi La mia sensazione è che se ci fosse una proposta alternativa ovvero un gruppo interessato a levare i mattarelli sulla scena da 30 anni a questa parte sarebbe la benvenuta Temo però alla luce anche delle ultime indicazioni arrivate oggi in sede di calcio mercato che non esiste a questa prospettiva e che quindi il Bari debba d'ortocollo continuare con questa gestione, rifondare una squadra, cercare di riconquistare la sede non sarà per niente facile